Musica Ma passate voi a me, scusa siamo in 14 Ma a me non me fa spostà, a me non me fa spostà Ma te fa parlà? Non è Non mi fa spostà lì Non mi fa spostare perché dice che avevo già cambiato in precedenza Non ho capito quando Ma che mappa è questa? Ma io voglio cambiare, ma che paghi Troppo ripidocio dell'ultimo cambio Ma che sta a dir il gioco? Ah ok Ma che mappa Ah boh Ah questa è in hand Sì ho capito ma che parte di mappa è E' niente finito di mappa Aiuto, wiii Marzo a stare ai servizi Cazzo Ma dov'è che camper non sto qua? Ah cazzo non può morire però sto qua E' cascata la gruva, è cascata Ah a Che casino ragazzi Minchia sto per chiamarla Cam La cam che hai chiamato appicchi meglio male, sono contento per te tanti auguri ti ho fatto lo scalpo uccidetelo non mi fermo più ciao ma che palle ma io rinasco a questo eh vabbè, te la li hai cercato no ma grima, gliel'hai detto giugno, vero? no, non è possibile, come faccio a dire io gli stavo tirando le pizze in faccia mamma mia porca droga vuole morire questo no, minchia ma è rete quella che mi sei morto sui piedi? sì ma poi il fucile a popa quando cazzo si sblocca non ancora sbloccare è una categoria d'armi, penso ah, non lo so io sto rinascendo il crebo sempre, e comunque mi dobbiamo rinascendo il caccio, eh vabbè è grigio, non ti da prendere guardia guardia mi dobbiamo rinascendo 0,4 eh vabbè 0,5 no è scivato ma che cazzo fa? ma che fa quel carro in mezzo a nulla? ma vuole vedere il cazzo, eh? non posso rinasce vicino a un carro, eh? cristo ma come ci va a fare una cosa del genere? non lo so, chi chiamare i crubi? eh, ma porca eva questo guarda quello di dov'è guarda quello di dov'è sono tutti morti ma c'è un cecchino che sta a camperà ma poi la bomba è stata troppo lontana dal respawn vieni qua, vieni f***o ma ce la fate a piazzare o volete una magno? non lo so, noi stiamo combattendo per la nostra libertà ahahah e vieni per prenderni carcella ma dai questo che prende il tuo giorno finché c'è il carrole ma non c'è il knack che prende i comandi a carro con il carro dove arriva di una finanza a car ma che sta succedendo? che noi abbiamo perso gli hanno masciagraggio adesso riusciamo a giocare insieme oppure no cambia squadrone adesso potresti farlo l'M320 L20 che cos'è l'ho sbloccato il FAMAS 5 e 7 madonna 20.000 punti il pack rank è buono un'arma è soltanto un po' overpore è devastante è devastante il Kinect dei porti letto qua il Kinect dei porti letto c'è un Kinect dei porti letto abbiamo pure rubato l'elicottero è vero l'ha cancellata di nuovo la campagna guardiamo come i gold Grigio occhio vai tranquillo guarda a destra e a sinistra va bene però non ti metti gli angoli si in effetti ecco bravo mettiti agli angoli si si tranquillo so badare a me stesso nooo mamma che sfiga ciao eh ma ci stai devastante se stai bruciando se ti stai bruciando ma come chi va bene qui li preoccupi dai mamma mia eh ho capito copri bello mi fa cascare ho fatto capire la tegola Grigio se l'hai fatti tu m'hai levata io so cascare sotto come un deficiente sto avanzando su Grigio mica giù li ho pregio eh figlio di puttagna e ora hai preso hai preso io ho preso uno si è buttato giù dal borde ma sono tutti a sinistra ma sono tutti a sinistra ragazzi a sinistra eh chi là a destra magari ma che bastanti no no a sinistra vedo Grazie a tutti.